Salve a tutti, ciao, oggi è sabato della seconda settimana di Quaresima, è sabato, quindi di nuovo il pensiero corre alla Vergine Maria. C'è un'immagine, a me piace moltissimo questa immagine, è una icona ortodossa e si vede molto bene come Maria indica, con la mano sinistra, indica il bambino Gesù. Infatti questa icona viene chiamata Odigitria, cioè Odos è la strada. Cosa vuol dire? Maria dice a noi, la strada è Lui, Lui è il centro del quadro, Lui è il centro della nostra vita. La strada per arrivare a Dio è Gesù. Che facciamo oggi? Allora, cerchiamo di andare al Signore, andiamoci con quello che potete, amore, fede, lettura, preghiera, lettura del Vangelo. Ricordiamoci che oggi Maria ci indica, ci indica la strada, è Cristo. E quale strada vogliamo? Quella di Cristo e basta, è la migliore. Ciao a tutti, buona domenica e domani naturalmente vi aspetto alla Messa Domenicale. Ciao!